A Marina di San Lorenzo siamo venuti a fare visita al gruppo musicale Gli Amadora, Amadora Group, buonasera. Buonasera a tutti, io rappresento insieme ai miei colleghi musicisti il gruppo degli Amadora che ormai sono sulla piazza da tantissimi anni, è un gruppo storico che è di esperienza pluridecennale siamo qui in compagnia tutti quanti e quindi intanto mi preme presentare i colleghi musicisti Pasquale Nunnari al basso, i fratelli Cuzzupoli, Francesco e Natuccio, rispettivamente chitarra, voce o fortunato chitarra, voce e Francesco Cuzzupoli invece batterista. Io invece sono onorato di suonare insieme a loro ormai da più di vent'anni e sono il tasterista pianista e Pasquale invece è il bassista. Ecco, questo gruppo come nasce Gli Amadora Group? È un progetto che risale a tantissimi anni fa, abbiamo suonato in tantissime piazze calabresi un'esperienza ovviamente straordinaria che trova fondamento sostanzialmente nella grande passione che abbiamo per la musica ma abbiamo un'altra passione che ci tiene legato ormai da così tanto tempo cioè la passione per l'amicizia che abbiamo, il rispetto, la stima reciproca che è un collante straordinario per chi come noi poi vuole così dilettarsi con la musica, allietare e soprattutto divertirci e siamo, devo dire, sempre emozionati quando ci esibiamo e dovunque ci esibiamo proprio perché la passione per la musica è talmente forte che ancora oggi ci fa tremare prima di ogni esibizione. Quest'anno, come anche l'anno precedente, speriamo di poter così assolvere al nostro compito di passione musicale attraverso l'esperienza degli stabilimenti balneari dove ovviamente allietiamo tutti coloro i quali vogliono partecipare ai nostri concerti. Che genere di musica che fate? Sostanzialmente facciamo musica leggera italiana, ripercorriamo gli anni 60, 70, 80, cenni degli anni 90 con qualcosa di più contemporaneo. Accanto a noi oggi non è presente ma c'è la nostra vocalist che è Lucia Miniti appunto la vocalista del gruppo, la voce solista femminile che ha dato un tocco davvero particolare al nostro repertorio. Questo è un gruppo che diciamo è nato quasi 40 anni fa se non sbaglio, no? Almeno 30 anni fa. 30 anni fa, io sono andato avanti di 10 anni. Quindi poi vi siete fermati, c'è stata una pausa, qualcosa oppure avete... Sì, c'è stata una pausa di qualche anno dovuto anche ad impegni personali di ognuno di noi, poi non abbiamo resistito a rimanere troppo slegati da questa nostra grande passione e quindi abbiamo pensato bene di riproporre il nostro progetto appunto sotto il nome di Amadora Group proprio per sottolineare la compattezza della nostra amicizia e abbiamo messo a servizio questa volta degli strumenti musicali, la nostra passione e il nostro talento per quel che ne abbiamo e lo riproponiamo a tutti coloro i quali ne hanno voglia di sentirci. Quindi vi siete ritrovati naturalmente, ma questo è diciamo che il gruppo da sempre o c'erano altri componenti? Allora il gruppo si è manifestato nel corso degli anni anche attraverso le esperienze di altri musicisti o di altri cantanti e anzi colgo l'occasione proprio per ringraziarli e per salutarli, sono stati anche tanti e sostanzialmente il gruppo è composto da noi quattro musicisti e da due anni a questa parte dalla vocalista Lucia e fino a questo momento riteniamo che questo sarà probabilmente il gruppo base che poi dovrà esibirsi per il prossimo futuro. Ecco, il prossimo futuro, diciamo non più giovincelli, 30 anni comunque, diciamo anche sulla cresta dell'onda perché avete fatto delle grandi serate, insomma della musica, abbiamo prima ripreso con le nostre telecamere alcuni pezzi, devo dire che, voglio dire, va bene? Sì, attualmente siamo in sala prove appunto per mettere a punto il programma dell'estate 2015 non siamo effettivamente più tanto giovincelli, ma saremmo più anziani se non facessimo quello che facciamo perché la musica ringiovanisce, certamente e poi, come io ho sempre detto, per emozionare bisogna essere emozionati e noi siamo emozionati anche nella sala prove Anche quando provate, quindi vi emozionate, insomma anche perché poi quando uno suona e canta deve emozionare il pubblico, no? E quindi se lo siete voi, quindi naturalmente Certamente, la musica appunto è un collante unisce e rappresenta uno degli, così, degli stimoli più belli che si possono avere in un momento in cui ci sono tante, come dire, tanti screzzi, tante divisioni devo dire la verità, la musica è uno dei collanti migliori E quindi, le vostre emozioni che volete adesso, in futuro, trasmettere al pubblico, giusto? Sì, senz'altro Il batterista, facciamo parlare che lui si è stancato un attimino No, cerchiamo di emozionare, siamo emozionati pure noi, anche in questo momento chiaramente davanti alla telecamera e non siamo tanto abituati a tanto per cui cerchiamo di andare avanti Non canta, non è in prima linea, lui sta dietro con la batteria, quindi Ecco, mentre tu sei voce Io sto un pochino più avanti, in prima linea, suono e canto la voce maschile Quindi sono più abituato probabilmente a parlare con il pubblico Come diceva il nostro amico Francesco, stiamo riproponendo dei brani, delle cover riarrangiati in chiave moderna, quindi cercando di trovare delle nuove sonorità e comunque degli accordi particolari che riescono, diciamo, a creare dei climi musicali e strumentali particolari Ecco, facciamo qualche domanda anche al nostro amico qua Ha dei capelli straordinari, bellissimi Buonasera Buonasera Di poche parole Di poche parole, lui suona il? Il basso elettrico Il basso, quindi non canta, suona soltanto No, 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 suono il basso e basta Nessuna controvoce, nessuna... non canto praticamente Vi siete ritrovati comunque adesso, gioia e festa per voi, voglio dire Sì, sì, dopo parecchia Tutte le volte sarà una gioia Certo, certo Si emoziona, ogni volta uno si emoziona, diciamo, ogni serata che facciamo, ogni volta che suoniamo Bene, adesso, voglio dire, vi state preparando per quest'estate Chi parla? Chi mi risponde? Passiamo la parola alla voce Ecco, la voce del gruppo Quindi vi state preparando per quest'estate, l'estate 2015 Quindi i vostri progetti futuri Ci stiamo preparando già dalla fine dell'anno 2014 Speriamo di essere pronti fra circa un mese e mezzo Cosicché possiamo già cominciare ad affrontare gli impegni che abbiamo già presi per la stagione estiva Suoneremo tra Reggio e Bova, Condofuri Quindi questi sono già degli impegni presi? Abbiamo già degli impegni sicuramente presi Per cui ci stiamo preparando al meglio per allietare le serate Dei tanti turisti, speriamo tanti, che possono arrivare nella nostra bella terra Questo ce lo auguriamo, sinceramente, che arrivano veramente tanti turisti Anche perché abbiamo tante cose da far vedere e sentire adesso Certamente, speriamo appunto con le nuove sonorità che sono in fase di studio Speriamo di poter riproporre le cose, le canzoni degli anni 60 e 70 Anche con una motivazione diversa Ecco, volevo chiedere, voi 30 anni di esperienza sulla musica anni 60 e 70 Ci sono tanti giovani che cantano questo genere di musica Un messaggio a loro? Guardi, c'è un ritorno ormai da qualche anno, questo è assodato Un ritorno alla musica, come dire, propria italiana degli anni, soprattutto degli anni 70 Perché evidentemente i motivi proposti negli ultimi tempi Probabilmente non riescono ad entrare nel cuore delle persone Cioè noi oggi cantiamo e suoniamo e ci divertiamo a farlo Dei brani che hanno 30 anni, 40 anni di storia E nonostante questo mi fa piacere sentirli cantare ai ragazzi addirittura molto più giovani di noi Non parlo solo delle persone nostre coetane o magari, come dire, coloro i quali hanno maggiore età rispetto a noi Ma addirittura sono canzoni che cantano le mie nipotine, il mio nipotino Ragazzi di 12-15 anni Evidentemente canzoni come Volare, come Paese Mio, come non so, tanti altri Hanno lasciato il segno, rimarranno sempre comunque Certamente, queste canzoni hanno lasciato, senza luce per esempio, hanno lasciato il segno nel cuore degli italiani E non solo degli italiani Perché per esempio Volare, tra l'altro è una canzone che noi non proponiamo nel nostro repertorio Ma comunque è una delle canzoni più belle che mai siano state scritte e che sono conosciute in tutto il mondo Ma ripeto, c'è l'altro aspetto fondamentale della musica, quale collante E come dire, la rivalutazione di sentimenti e di valori che ormai si stanno perdendo Noi suoniamo insieme da più di vent'anni Ma devo dire la verità, mai uno screzio Mai discussioni inutili Se non per apportare modifiche in termini produttivi all'interno del gruppo Una gran bella amicizia che vale la pena ricordare e vale la pena vivere E la musica è parte sostanziale di questa nostra grande amicizia Ecco perché noi facciamo musica Facciamo musica perché ci divertiamo in quanto amici a riproporla Guai se non fossi così Certo Scusa se intervengo È quello di consigliare ai giovani di imparare uno strumento musicale Perché suonare è davvero bello Ma soprattutto la musica è un antestress eccezionale Quindi imparate a suonare uno strumento Chitarra, basso, fate voi Però è importante suonare Quindi è giusto che i giovani si avvicinano alla musica E che facciano veramente Cioè questo è un esempio Voi 30 anni voglio dire di musica 30 anni di canzoni Di tante altre cose Quindi ancora oggi vi ritrovate adesso insieme a cantare Quindi questo è veramente un messaggio molto molto positivo Voi voglio dire la musica come diceva Franco ringiovanisce Infatti Franco ha 60 anni e non li dimostra E non li dimostra Lui ne ha 80 84 mi sembra Esagerato Esagerato E da 30 anni che prende la pensione No no va bene Comunque è bello ritrovare E poi ritrovarsi insieme alle prove Insomma Voglio dire dopo tanti anni È bello adesso che voi vi proponiate al pubblico Con le vostre pensioni Vi divertite Ci divertiamo anche quando proviamo E questo assolutamente è una cosa eccezionale Aspettiamo la serata che si deve provare Con ansia per poter divertirci Io vorrei chiedere qualcosa a Giovanni Abbiamo sentito lui cantare pure qualche canzoncina Anche lui non è così giovane Un amico del gruppo? Vabbè diciamo che la base di questo gruppo parte da un po' di anni addietro Milano in 78 Il gruppo era formato di altri elementi C'era anche mio cognato Adesso non c'è più comunque Abbiamo fatto una storia Diciamo che a San Lorenzo Marina Sia musicalmente sia sportivamente C'è una storia abbastanza bella Comunque io quello che io voglio dire C'è la base proprio Che questo gruppo alla fine suona Non voglio andare oltre Suona, fa le prove C'è su una nota magari ne perdono mezza giornata Però suonano C'è a differenza C'è a differenza Voglio dire che c'è gente che fa finta E non è giusto Me ne rispetto degli altri Chi studia musica C'è deve studiare musica Quello che diceva Natuccio Sì è vero I ragazzi dobbiamo invogliare a farli studiare uno strumento Però oggi come oggi Secondo me Se non si mettono di punta A studiare musica Se c'è la passione Ce la possono fare Se no Secondo me Non vanno da nessuna parte C'è tutto questo E poi Che no Non li sto scoraggiando assolutamente C'è allora Certe cose C'è Si devono sentire C'è Io mi auguro Io ho anche un nipotino Si mette nel pianoforte Ho piacere Però Se a un certo punto C'è mio figlio Ha fatto due anni di conservatorio Contrabbasso Poi ha mollato Mi piacerebbe che mio figlio continuasse Però purtroppo non ce l'ha fatta La passione Non c'è E poi Diciamola Chi fa musica E diavano diverso Non vi voglio offendere nessuno Però E animo diverso